E signori avete letto bene dal titolo, oggi siamo sia con Refio che con Pua per provare a portare e sfatare 5 miti del dog, pound, boss, snoopdog, gang, e non ho capito nulla C'è uno che ti spara, c'è uno che ti spara, qualcuno è morto Ma tranquillo, non dobbiamo avere paura di nulla, c'è uno ancora da me, guarda questo se n'è già andato, volevo dire che ce n'era uno da me, però è già morto Ragazzi, I got one of vita Allora, io invece l'ho ucciso uno, eh Anch'io l'ho ucciso uno e qua ci sto un po' per voi Bene, bene Allora, piano e calmi Comunque, ho fatto un intro un po' particolare perché non capivo nulla né io né ne penso voi a quanto pare In ogni caso, dobbiamo, come primo mito, farlo ballare e vedere se come balletto farò il suo balletto classico, ovvero il tagadagadan Eh, no, 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 no Si, guarda che secondo me dovrebbe farlo Comunque, in ogni caso, secondo mito fondamentale, con calma tutti Secondo mito fondamentale molto importante è quello di portarlo alla vittoria per capirsi ci farò sbloccare qualcosa di figo un cesso che mi avete trasportato io nel frattempo ne ho killato un altro ancora questa è la differenza tra me te prendi i cessi e ti diverti così io invece kill le persone attenzione perché qua abbiamo un dissing che facevano alla scuola elementare sono stato troppo cattivo io supporto e faccio kill tu invece guardi e muori aia 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 mi hanno levato mannaggia allora chi è stato mangiato ragazzi sono travestito da scagnozze uno mi ha appena costato appena costato c'è il boss lì ok direi di killarlo già adesso vogliamo killare aspetta ok allora killiamo l'ultimo nemico rimasto tra l'altro ce ne sono tantissime ragazzi abbiamo un bel po' di kill mi puscia me ha uno di vita ucciso bene ragazzi io l'uccido io l'uccido due e mi trovo loot del cacchio poi l'uccido uno ferro e si trova lo spazio vabbè comunque allora ora attendete un attimo che mi piglio no non era il bar comunque il cieco fiola dove sta il boss non lo so ma io sento ancora niente che cammaina si io sento gente invece che sta arrivando dalla macchina hanno preso la macchina però non è un problema fidatevi li killeremo anche questi raga appena arriveranno li killeremo però io voglio il boss dove cosa succede ai pot ai da me 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 ottimo corriamo da rete corriamo da rifa salvarlo in ogni caso ragazzi nel frattempo vi ricordo like iscrizione e codice ferro per supportarmi al massimo negli soggetti andiamo a devastarlo ora dove stavamo se lo vedo raga ero sotto il coso ok buono 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 macchina macchina ok bunker raga bunker sì sì bunker direi di sì è come però raga non avete neanche una come si chiama bomba ballerina ma si leva che voglio lo scudone esatto vado aprire il bunker ho capito vado aprire il bunker belle le bende ma non le voglio come ti trovai ad aprire il bunker se c'ho io la chiave elettronica non spieghi muoviti a venire anche te lo erano testa di cavolo è grande ma guardalo ma lo senti allora io mi permetto io mi permetto perché oggi ragazzi dovrete essere anche voi dei bodyguard del nostro amico snoop dog e mi raccomando ma con calma frate ma stai tranquillo no 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 noi non dobbiamo permettermi ma ehm no 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 volevo aprire qualcosa anch'io però vabbè non fa nulla ho lasciato una cosa interessante allora fermi mini scudoni qua stai lasciando tutto mi date un mini kit uno scudone per favore aspetta con calma mamma mia quanto paura quanto vuole io non sono calmo perché io voglio portare la vittoria al snoop dog no raga ma avete rubato ah no ok no niente lo scudone ma avete rubato no raga l'ho droppato io e non è che lo posso aver rubato se l'ho droppato niente poi l'ho rubato poi arrivano 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 sì 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 c'è gente dove è snoop dog ragazzi da qua se potete possiamo uscire se potete da qua raga possiamo uscire ok sì raga ricordate che non tirano snoop dog dobbiamo star qua attaccati a snoop dog raga per forza ragazzi da sopra da sopra da sopra allora ci stanno 61 player rimasti che si vogliono mettere tra di noi e la vittoria di snoop dog ok non dobbiamo concedere cioè raga morite voi piuttosto morite voi piuttosto ma non deve no snoopi duppi snoopi duppi snoopi duppi eh ma snoopi duppi segue ferro frate snoopi duppi eh meglio così fidatevi io lo porterò la vittoria ragazzi io ho un piano no io ho un piano uno degli altri miti è quello di portarlo dagli altri boss che teoricamente sono già morti e quindi il mio piano è proprio qua il mio piano è qua l'elicottero eh sì ci stavo già salendo su venite ragazzi si va con l'elicottero aspetta aspetta snoopi snoopi dov'è che sei giusto aiuto ferro scusate dai dai ma beh cioè ma guarda stai distruggendo un elicottero frate salite eh ma buona ma devo aiutare snoop qua cosa è che sta facendo vabbè ragazzi sapete che vi dico tranquilli no bua aspetta aspetta perché Snoop Dog tanto in qualche modo si teletrasporta bua no ma sale anche lui dai il tempo di tolare le scale mannaggia lui stupido snoop dog graga dai dai muoviti a salire oh fatelo ballare fatelo ballare fermi 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 si 3 2 1 taga taga da e no 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 e snoop dog bellissimo ok il primo video è scordato levati levati spostati su saliamo non facciamo guidare snoop dog ma del resto va bene andiamo ora si va a pushare persone ragazzi perché nonostante abbiamo noi il boss vero boss della mappa noi dobbiamo far kill dobbiamo ricordarci che siamo veramente capito dobbiamo ricordarci la nostra indole indole millenaria della vittoria mossa della foglia vittoria mossa della foglia questa mi è piaciuta non l'ho mai sentita giuro ragazzi la vera domanda è Snoop Dog ferro farà la L guarda la tua sinistra sono dietro di noi corri ma smetti ma non ci credo che è sempre con questa gag del cavolo vedo delle macchine saltare qua in mezzo guarda lì oddio oddio no raga è il salto più bello del mondo non ho mai visto un salto del genere no neanche io ma dove è andato zio no raga è volato no ragazzi come ha fatto cioè ragazzi è finita non possiamo più fare cioè basta allora vi posso dire che io ieri facendo un salto così con quella macchina lì sono andato a finire sotto la mappa e sono morto quindi potrebbe essere capitato anche lui eh ma ragazzi ma che cavolo appena è successo fruggero è volato nell'iperspazio ma nell'iperspazio ma dai abbiamo beccato delle persone che sono scappate così ma che cavolo è normale ma guarda che succederà tipo solo questa cosa ormai cioè fidati mannaggia loro per portarlo dai boss eccolo ok persone sotto queste non scapperanno 20 bianco 20 bianco 20 morto uno morto l'altro easy ok era solo sotto qua no questo qua non è morto questo non è morto del tutto teoricamente raga allora io sto da snoop dog bravo vai tu fai quello che devi fare tanto il aereo non dura più perché c'ha troppo poca vita c'ha 80 anni di vita e qua non vedo persone no mi sa che mannaggia ma non ce ne stanno vabbè ragazzi non vorrei dire una cavolata ma mi sa che ti sa che puzzola te zio cos'è ma stai scherzando cosa no ma non hai capito cioè guarda qua se tu apri qua la cassa ok aiuto no niente aiuto vabbè io so questo doob dog qua vabbè non ho capito nulla come al solito ne vi fai grazie eh ci raste per per spiegarci sempre bene i tuoi problemi e vabbè niente allora niente la prossima volta dovresti assolutamente testarlo sulla tua pelle ogni tanto penso a Refi e dico cacchio ma adesso vengono a un elfo dei boschi eh ma tu sei un elfo del bosco sparate gli elicottero per noi aspetta gli sparo dietro la fermi boss contro boss raga eh boss contro boss siete pronti no vai raga dobbiamo dimostrare il boss più forte velocizza andiamo eh non c'è il busto in questa macchina non c'è il busto perché bisogna manchia più scrausa frate non è vero era quella più bella vai andiamo 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 raga due team che fightano tra l'altro ok dobbiamo uccidergli a loro il boss e non ci deve morire Snoop Dogg io vado in mezzo hai paura di nessuno vai 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 si va ragazzi ho paura di nessuno ok è morto uno bravi distrutto 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 ho una HP ci sta l'altro boss che fa il fighetto ok c'è chiamato l'altro boss morto uno morto uno morto uno bravissimo a me mi hanno mangiato raga eh morco no raga da me sono morto eh no 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 arrivo arrivo invece l'ho mangiato io uuuu poverello raga mi dispiace quasi ma cos'è il boss che ne sta scappando qua sotto c'era uno qua sotto c'era uno dove sei andato l'elic credo ma ce ne sono no è pieno è pieno raga da me a me a me a me a me a me my oh esatto io sospettavo solo quello grazie a dicevi dimmi se mi spaccano e se provano inoltre ma se mi doverò si dice una buona vita a loro poi il ragazzo di 35 white no non c'è un po ucciso il boss ok un po ucciso il loro boss questa è tanta roba questa roba tranquillamente aveva uno di vita veramente lo so bene 56 non è morto curato sicuramente no 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 da niente c'è la mia scheda da fuoco bravissimo sempre non l'ha chillato già lui ok buono 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 allora a chi è che non è vivo invece il ref e potesse andare a restarlo e sapere che è il p 90 oro grazie sapete chi altro non è vivo questo cavolo di boss che provava lui ci ha provato a il nostro posto è riuscito un altro timo da dove un altro team non lo so premio fare big davvero attivo hai sentito zio si arriva qua dal lago e devi dare un secondo che mi sto curando sì dopo di non ci sono perché io ci sono davende io ci sono intervente tanto io sono a posto ma manca le bende ok non deve morire no al boss non devono sparire bossa sono scena risparmi al nostro storia non stai arrivando stai arrivando arrivando uno spiegato un rossino deve stare dietro questi se ne stanno scappando si andiamo a killarli e poi pensiamo a salvare le fa grazie grazie per rimesso prima di tutto che è ucciso sì prima di tutto perché se non chiediamo questo arriva un'altra macchina dietro di voi come l'altra macchina di loro che io sono da questo qua e non è forte è un bot è un bot buono 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 allora chillo vado iniziare a salvare fa sì raga perché io non vorrei andare a riprendermi il loot che mi ha rubato no non ti ho rubato proprio nulla ref anzi guarda quel p90 oro era proprio mio no 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 ce l'avevo già io il p90 vai a vedere il tuo loot fedati ce l'avevo già avevi il p90 viola non oro no oro ce l'avevo no 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 nessuno ha passato c'è uno che chi vola è io persone pure da me attenzione ok arrivo da te sì ma mi dispiace ma non è che ci può far tanto capito quando quando ti becchi il broker c'ha l'arma di snoop dog e dell'altro boss che ha chillato snoop dog perché c'è da dire raga che il nostro boss snoop dog ha chillato completamente il boss e tra l'altro qua ci sono due team da me ferro ok ma bro ma porca vacca non devi stare da solo sto restando rinforzando sono solo dicendo che ma ci sono due team bravo attendi anche noi che vogliamo divertirci anche noi non trovo rubato ref con questo p 90 ma mannaggia c'era dall'inizio della partita vediamo adesso andrò adesso andrò a controllare personalmente nel mentre voi controllati ci siano p 90 oppure no sto arrivando da te ok che ce li andiamo a distruggere quelli ditemi solo perché cazzo c'è stato perché c'è stato piccolo è una bella domanda dove stanno la città di dove si è raga ok li vedo li vedo li vedo ballotto guarda la davanti abbiamo creato 30 persone abbiamo chiesto che stava un po di root c'è il mio che refera lì sopra dove ho messo il ringrazio grande no perché si facciano che non può uccide tutti in volo un mostro questo qua 31 da me allora non sembrano malissimo stanno arrivando stanno arrivando questi costano arrivando ragazzi sappiate che non volete fare affidamento su di me lo so che è una grande perdita ma hanno mangiato uno morto uno ma hanno mangiato ma hanno mangiatissimo ucciso ma non proprio distrutto già lui com'è possibile che sono morto no raga non moriamo per favore il nostro boss non morirai in questo momento da solo poter ciao come faccio sono morto io devi scappare corrompino scapparampino devi devi andare per la mia scheda allora può portare lontano un è morto dietro di tempo a chi la 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 subito chi la bravo le sinistra oddio non ci credo bravo bua ti prego la tracci mi sei andato prendere la scheda tarefa già presa già presa sia un grande di andare subito restarmi bravo mamma mia vedi ecco il ref è corrente che la glacia allora può a te nel frattempo dovresti trovare il tipo è lì dietro spettano sotto dietro dietro devi chiedere il tipo per terra non so bene non so bene morto sono il più forte il più forte non direi ma sei stato veramente veramente molto bravo mamma mia e aspetta che cosa aspetta a questo qua c'è l'ha vedi che vuoi c'è l'ha vedi che vuoi c'è l'ha il zio dimmi se c'è anche il barrette no 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 il barrette non ce l'avevo ok a meno questo me lo merito e che diamine ho guarda che diamine ho ho subito che vedo un po di no 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 fermi ragazzi il boss non do in tutto questo no sono morto io è morto no 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 è vivo è vivo è vivo è qua cioè lo vedo in mappa cosa vuol dire vedi in mappa vedo il segnalino del boss direte non dire del boss no è rifi raga mannaggia non ci credo raga non ci credo abbiamo fallito no non abbiamo fallito eh sì abbiamo fallito abbiamo fallito è da portare alla vittoria snoop dog mannaggia quindi ora non ci credo allora raga dobbiamo provare per forza una cosa allora io direi proviamo comunque a vincere in questa maniera quindi proviamo a capire se comunque ci può dare qualcosa nonostante magari abbiamo assoldato snoop dog ma non l'abbiamo proprio portato effettivamente alla vittoria e un'altra cosa per forza da fare oltre a vincere sta partita ok raga raga sky base raga porca trota difendetemi pova per favore pova che cacchio di chi l'ho fatto bro 206 metri oh mio dio ok ma piano come una sky base raga si sta facendo sky base mi ha chieduto il cuo dal nulla ho detto che cacchio un hacker vabbè raga allora abbiamo due cose ancora a fare comunque dopo un'altra partita ci serve a soldare il boss noob dog per portarlo da un altro boss direttamente quindi dobbiamo capire se ci fa amicizia alleanza o altro anche se in questo caso nella quale il carissimo nostro amico bro era con noi e gli altri cioè l'altro boss era stato soldato un altro il nostro boss l'ha killato quindi va bene siamo più forti noi comunque ricordatevelo però dobbiamo un attimo provare a fare questa cosa e soprattutto a capire se vincendo questa partita quindi vinciamola non si esistono non si può morire mi raccomando il nostro boss cioè comunque ci danno delle icone giocatore non so qualcosa di speciale ma potrebbe anche essere ma io non sto capendo dove stanno dove stanno è qua esattamente nella box qua di pietra si stanno curando lo vogliono va bene va bene va bene buono buono io direi di andare anche in safe tra l'altro perché non c'ho un rampino e la safe è bella lontana morto un altro morto un altro bravissimo tu stai killando gente ma io non la vedo cioè ti vorrei potrei dare una mano ma no ragazzi ho 11 kill manco me ne sono accorto buono bella partita mi sta facendo mi sta facendo raga voglio dirvi una cosa onesto io sono un po sad il nostro boss noob dog frate che il tuo padre perché il boss ricordi sempre che sei tu il boss ma poi ce lo teniamo nel cuore no non funziona così io sono triste lui poteva poteva portarci alla poteva poteva darci qualcosa di carino che noi non potremmo aver avuto nella vita un bacino che cos'è che ci dava la sua solta no lui ti andava a risolvere dei problemi della vita intrinsechi capito cose che tu non vedi non senti eh fa tanti problemi un esempio logico un esempio logico non esiste un esempio logico però fidati di me comunque allora ci stanno persone qua davanti raga guardali guardali adesso uno li investo uno li investo perfino in volo lo chilo devo blindarlo mannaggia adesso con la mini con la tua mamma mia con la minigun questo boom no mannaggia a te refè adesso gli spanno con la minigun oh bravo dove sta l'ultimo bravo 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 no raga comunque anche la minigun è troppo illegale dove sta l'ultimo tre contro uno abbiamo tutti il cechino? si abbiamo tutti il cechino si ce l'abbiamo facciamo un blinda? ragazzi si blinda si blinda e per snoop dog si blinda per il nostro mico snoop dog per snoop doop per snoop doop prima di portare rip snoop doop prima di portarlo alla vittoria nei nostri cuori nei nostri cuori e soprattutto prima di portarlo da un altro boss perchè dopo dovrà fare il suo fight più incredibile di sempre ricordatevelo e se non dicessi di no? eh se dicessi di no io ti snoop doop ti snoop doop io ti posso snoop doop perché l'avevo assolato io prima il boss te lo dico io sapete che credo di averlo visto dovrebbe essere in quella casetta là ma non sono sicuro raga allora direi facciamo fuori quella casa completamente così che almeno capiamo se effettivamente stia là oppure no oh sei ferro e non porti lancore per la morte di sduppi dupi uomo mi raccomando ricordi che non devi ucciderlo eh esatto direi che Powa non l'ha trovato no per nulla raga ma non è che tipo sta ancora in una skybase anche lui? eh adesso lo suggeriamo non ci sono persone cioè l'ultimo in realtà ci deve essere avete ragione Powa vieni Powa sali non ci credo ma non dove? oh man eh gg un gg cosa qua si diverta a buttarmi giù va bene no ah già a te oh l'ho visto c'è la raga blinde la vita l'ho visto l'ho visto oddio no te faccio io il blinde la vita guarda qua pam pam ma ragazzi abbiamo tutti il barre tra l'altro si vabbè gg allora sarà molto difficile raga blindare col barre beh ma quel colpo di è andato ragazzi in primo inizio giugno non devi avvicinare così tanto ferro eh no però è giusto vabbè adesso dobbiamo fare un blinde se vuoi farlo da lì ma sì stiamo qua un'ora un'ora e mezza allora tanto non lo becchiamo neanche da qua vicino eh tu dici? eh ciao raga dai allora non dobbiamo avvicinarci troppo dobbiamo beccharlo da questa zona ok fermi bam eh ferro è giusto qua c'è l'atomica eh ah ma io riesco anche di morire non mi ha detto nulla eh ma ok fermi bam riveglierei interventi dietro eh esatto ma spara solo me raga eh questo spara solo me guardalo raga la rischio raga la rischio faccio faccio il grande grande salto aiuta no no ragazzi potete bloccarmelo così però mannaggia voi ma me l'avete bloccato codice RF ma ho appena ucciso c'è dove ti sei l'ho bloccato cioè l'ho blindato grande grande vai via fatti che dico zio 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 dai zio 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 dai zio 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 allora richiudiamo le scatole dai che non mi dà la cifra tu 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 mi dà la cifra e let's go signori bella vittoria ma ora abbiamo un'ultima cosa da fare quindi veloci in partita ci siamo raga ultimo test velocissimo prendiamo zubdog lo portiamo da un altro boss vinciamo la partita no vince la partita è bastata quasi prima e no no non ci ha dato nulla è quella la cosa brutta che volevo dire non ci ha dato letteralmente nulla ragazzi perché non abbiamo portato la vittoria tendenzialmente vecchio già non so se non è esatto mannaggia ma mannaggia 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 no mannaggia mannaggia non posso dire solo io innanzitutto quindi calma mannaggia ma non c'è nessuno non è andato con voi ma what buono 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 meglio meglio vediamo velocemente il boss anche io non vedo è una domanda però è più che una risposta no no nessuno è andato ok eccolo qua c'è il boss c'è il boss there is the boss venite ok sta ballando guardate che gli lancio questo penso che hai intanto me al suo posto si penso che ho avuto le truppi la propria dai 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 bravo vai vai chiliamo l'ho distrutto a uno di vita vai vai mazzalo ok hai fatto buono raga mentre voi fate le cose sempre ci sono qua a clacciare tutto quanto ok andiamo al bunker andiamo al bunker no al bunker no non hai capito forse che dobbiamo solamente portarlo adesso velocemente da un altro boss arrivo arrivo scusatemi avevo complesso male vai tu però si è pomato ad andare a voler andare al bunker la giat mi vede da me si 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 però ti sto dicendo sono pomato ad andare dal bunker senza avere nulla capito vabbè io sono mitraglietta senza colpi un pompa vediamo appena sarà il posto cosa vuole è rebuttare il boss vuole rebuttare al posto che salire managgia il boss vuoi che salire no raga guardate vabbè posso dire una cosa non possiamo perdere tempo devo iniziare ad andare un boss tra l'altro andiamo a quello del pozzo o quello dello yacht io ti consiglio io ti consiglio grotta spaghetti andiamo al pozzo raga perché almeno ci va meno persone perché sei tornato indietro il boss non lo so raga aia aia chi è mi sa che finchè non scendiamo tipo sulla mappa lui non potrebbe trasportarsi quindi adesso scendiamo un attimo lui si dovrebbe trasportare poi sale poi andiamo a vincere la partita facendogli killare un altro boss no non è vero non dobbiamo vincere dobbiamo solamente vai killare un altro boss perché non dove è? eccolo qua eccolo qua andiamo vai in guida dopo forca vacca grande ferro grande ferro vabbè niente vai te ho capito grande grande paura che mi ha preso subito l'elicottero vai 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 diritti per diritti al boss non dobbiamo fargli nulla al boss dobbiamo lasciare e vedere cosa si fanno fanno i due boss da soli ok dobbiamo semplicemente spostarsi un pochettino iniziasse ora a baciare eh sarebbe molto divertente come cosa questo è un mito che volevo vedere da tantissimo ti dico la verità ma non credo non credo non credo neanch'io onestamente però potrebbe succedere qualsiasi cosa quindi lindiamo scendiamo portiamolo vicino al boss devo andare io raga voi potete anche stare un attimo vai ragazzi droppa di ferro droppa ti vado a parcheggiare l'elicottero vai vai tu parcheggia bene l'elicottero ok droppiamo scendi snoop dov'è parcheggiato in maniera esemplare ok dobbiamo solamente trovarlo ma non c'è nessuno qua eccolo qua ok non farti vedere poi non ti deve sparare ok sta arrivando snoop sta arrivando snoop ok 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 guardiamo oddio il fight oddio si fightano uno contro uno chi vincerà chi è il più forte ok stiamo guardando un fight tra boss si stanno fightando tra di loro eh proprio dai 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 custolente mamma mia guarda che fai forza simile forza snoop vogliamo vincere ricorda mi ricorda il fight tra benji fish e mongran si bravo vieni a poco a devi levarti vedi se ho fatto a te no 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 hai rovinato hai rovinato guarda no stai insieme a te poi vuole il cavolo e non so cosa ci posso fare ascolta ammazzati lo faccio ballare intanto l'altro boss e si bravo vai 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 sparagli vai un bel fight è un bel fight mi piace mi piace mi piace snoop sta arretrando stanno un po' indietro no ma ehi ehi adesso qua mi sembra veramente esagerato eh ok mamma mia raga comunque l'unica cosa con la quale lo hit non riesce a hitarlo con la tomica non si hittano tra di loro raga cioè veloce io lo hita solamente con le puzzolenti però ci vuole ma mi viene devo andare per non farmi vedere attimo non so ok si vai d'anno solo attaccati oh mio dio ho aiutato snoop veloce ma sentala solo ma perché ma soprattutto perché lo faccio andare verso snoop ok vai ma gli puoi sparare per favore snoop ma ti prego dovresti difendermi ok si bravo mamma mia l'altro boss mi sembra più sveglio però eh raga dai no ok raga si sono distrutti ok ti prego snoop manca poco no la granata occhio snoop no ragazzi non sto sperando se perde snoop snoop però mi incacchio eh snoop snoop non puoi perdere non puoi perdere snoop ma porca vacca raga ma questo fight è incredibile si sa veramente che snoop si auto uccide no 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 dai ce la farà ce la farà ce la farà rompirla ok hanno poca vita entrambi ok si manca poco vai snoop dog ancora tre colpi di mac passi out poco si ispira le granate da solo le puzzolenti niente ragazzi muoiono di safe entrambi eh no no ve lo giuro che muoiono davvero di safe entrambi probabilmente eh ok vai snoop si si ha uno di vita non l'ha segnato ma il boss l'ha chillato fermi si è automaticamente assoldato no fermi cosa succede l'ho preso io l'ho preso io oh mio dio no fermo ma perché non lo so ma non l'ha restato snoop dog però si no l'hai restato te snoop dog serio no no io prima ho preso la scheda oddio no what è morto da tempesta no che cavolo è appena successo ragazzi spiegatemi nei commenti non lo so non lo so neanche in ogni caso like iscrizione codice ferro nei negozi oggetti per supportare il massimo ma aspetta per finire vorrei farti vedere una cosa guarda come ho parcheggiato l'aereo in mezzo al male codice ferro ci vediamo nel prossimo video bella rega